522 giusto per ricordarlo a tutti è uno studio randomizzato che confronta in una fase neo di uvante uno schema di chemioterapia con carboplatino taxano seguito da antracicline rispetto allo stessa schedula con l'aggiunta di pembrolizumab in una popolazione triplo negativa. I primi dati sono stati presentati all'ESMO dimostrando un aumento clinicamente e statisticamente significativo di PCR rate superiore al 10% e un'analisi preliminare anche se molto precoce di event free survival che mostrava un vantaggio. A San Antonio quest'anno sono stati portati degli update non tanto sulla numerosità di campione analizzato perché i dati che erano stati presentati all'ESMO rappresentavano una interim analisi che non riguardava tutta la popolazione complessiva del trial ma circa 600 pazienti però sono state sulla stessa popolazione mostrate delle interessanti analisi di sottogruppo per cercare di capire se esiste una popolazione che beneficia particolarmente dall'aggiunta di pembrolizumab e se eventualmente esiste una popolazione che invece non beneficia. Le principali caratteristiche che sono state considerate sono state alcune caratteristiche clinico-patologiche standard come il coinvolgimento linfonodale. In questo caso i tumori che sembrano beneficiare di più sono i tumori con un coinvolgimento linfonodale positivo e per quanto riguarda lo stadio il maggiore vantaggio è stato visto per tumori in stadio più avanzato. Va però detto che sia nella popolazione linfonodonegativa e sia nelle popolazioni a più basso stadio il beneficio dell'aggiunta di pembrolizuma era presente e complessivamente in queste popolazioni era più efficace il backbone della chemioterapia senza pembrolizuma quindi probabilmente la differenza di beneficio nasceva soprattutto dalla maggiore efficacia della sola chemioterapia in queste popolazioni. Un'altra analisi molto interessante che è stata fatta è un'analisi che andava a valutare PD-Lygan-1 che nello studio Keynote 522 è valutato con l'asse di DACO e l'anticorpo 2-2-C3 e lo score è calcolato secondo quello che si chiama Compose Positive Score cioè uno score che tiene conto dello staining di PD-Lygan-1 sia sulle cellule tumorali che sulle cellule del sistema immune. All'ESMO era stato presentato un dato che mostrava un uguale beneficio nella popolazione PD-Lygan-1 positiva e negativa. A San Antonio è stata fatta un'analisi ulteriore cercando di verificare se aumentando l'espressione del Compose Positive Score il beneficio di pembrolizuma andava a diminuire o aumentare. Quello che si è visto è che effettivamente all'aumentare del Compose Positive Score il tasso di risposta epatologica completa andava progressivamente ad aumentare quindi effettivamente c'era un beneficio progressivo a livelli di PD-Lygan-1 più alti ma anche in questo caso il delta rispetto alla chemioterapia si manteneva sostanzialmente inalterato cioè vuol dire che anche il trattamento chemioterapico è più efficace in tumori che presentano un livello di PD-Lygan-1 più alto e che probabilmente hanno anche un maggiore infiltrato di TIL e noi sappiamo che l'infiltrato di TIL è predittivo del beneficio della chemioterapia. Un'altra variabile che è stata considerata è la durata complessiva del trattamento chemioterapico e quindi dividendo la popolazione in un sottogruppo di pazienti che hanno ricevuto la chemioterapia diciamo ottimale e un gruppo di pazienti che per diverse ragioni ha interrotto il trattamento chemioterapico. Anche in questo caso si vede che la somministrazione di tutto il trattamento chemioterapico in modo ottimale si associa a una maggiore probabilità di PCR sulla chemioterapia rispetto alla popolazione che non ha ricevuto il trattamento completo. Però l'aggiunta di pembrolizoma al trattamento determina un uguale proporzionale incremento di beneficio in entrambe le popolazioni e quindi non siamo complessivamente con i dati che sono stati presentati in grado di identificare nessun sottogruppo nel quale il beneficio di pembrolizomab è manifesto. Al contrario emergono dei sottogruppi come la presenza di linfonodi clinici alla diagnosi e lo stadio più avanzato che potrebbero beneficiare quantitativamente in modo superiore dall'aggiunta di pembrolizoma ma tenendo presente che il beneficio è comunque presente e clinicamente significativo in tutti i sottogruppi.